Il cervello umano è l'oggetto più complesso dell'universo. 23 personalità abitano nel corpo di Kevin. La felicità! Eccola qua! È un bicchiere di lì! È un bicchiere di lì! Se non ci fosse limite a ciò che può diventare, può cambiare la struttura del suo corpo con il pensiero. Qualcuno sta venendo a prendervi. È questo il prossimo stadio dell'evoluzione.